Ingegner Marcozzi, oggi sono tornati a scuola i ragazzi delle scuole superiori di Teramo, domani riapriranno anche alcune delle scuole materne, elementari e medie di Teramo, ma i genitori non sono tranquilli, soprattutto dopo la classificazione della protezione civile che vede queste scuole rientrare in categorie diverse. Ci può spiegare cosa è successo? Adesso ci troviamo qui davanti a Deacobis. Ieri per mia curiosità e per dare anche un contributo, quel piccolo contributo che ognuno di noi in questo momento dovrebbe dare per tranquillizzare un po' la situazione perché si sta creando un allarmismo pazzesco, fuori luogo, atteso che dalle informazioni che noi riusciamo a ereditare negli ultimi due secoli e mezzo, questi eventi rientrano nella normalità. L'intensità delle scosse in quella zona, sto parlando, perché noi non siamo un territorio direttamente interessato almeno dalle conoscenze scientifiche a disposizione da terremoti diretti, quella intensità rientra nella normalità. D'altronde la vita dell'uomo è circoscritta un breve periodo quindi ognuno lo vive con ansia. Ma adesso dobbiamo razionalizzare e dire le cose in realtà come stanno. Noi ci troviamo davanti a questa scuola. Dicevo prima che ieri insieme alla preside gli ho chiesto la cortesia di farmi vedere un attimino che cosa fosse successo all'interno. Ma io a questo punto ho chiesto di guardare negli occhi i componenti della protezione civile che hanno fatto questo sopralluogo. Questa scuola non ha nulla di danni strutturali né tantomeno danni di strutture secondarie. C'è un piccolo problema, di un piccolo distacco sotto una finestra e questo è stato il motivo per cui è stata classificata inagibile. Poi la parola inagibile è stata estesa a tutto l'edificio ma non è vero. In realtà l'inagibilità interessava solo qualche locale. Secondo me fuori luogo e in maniera spropositata. Possiamo tranquillizzare quindi i genitori dei ragazzi terramani? Allora noi dobbiamo razionalizzarlo, dicevo prima. Dobbiamo far tesoro di quello che è successo, non di quello che succederà perché sono ipotesi, alcune anche fuori luogo, oltretutto messi in campo da soggetti che dovevano avere una grossa responsabilità, mi riferisco al Presidente della Grandi Rischi, che ha creato un panico pazzesco su questo territorio. Adesso dobbiamo razionalizzare. Noi quello che possiamo dire da ingegneri è che nell'ultimo periodo, a partire, torniamo indietro nel 2009, soprattutto negli ultimi sei mesi a partire ad agosto, sono state scosse importanti anche su questo territorio, chiaramente di riflesso, non di rette, con accelerazioni importanti. Beh, l'edificio della Deacobis, come secondo me la maggior parte, anche se non l'ho vista direttamente, a livello statico non ha nessun tipo di problema. Il che sta a significare? Lo posso dire con certezza che queste scuole hanno avuto un comportamento elastico, il che significa che possono ancora assumere quel tipo di energia, dare quel tipo di risposta e sicuramente queste scuole non crollano, non c'è questo problema paventato.